Lo spiacevole episodio che ha visto protagonista sabato sera un minore romano ferito con un pugno allo zigomo è l'ultimo in ordine di tempo di una movida sempre più discussa in città. Nel periodo emergenziale del covid io ho messo in atto dei provvedimenti che gli esercenti hanno molto contestato però mi sembra che quei provvedimenti in qualche modo hanno contenuto la situazione difficile. Noi non dobbiamo mai dimenticare che cosa è successo nei primi anni 2000 nel centro storico. Si sono create situazioni tali per cui il centro storico è finito proprio perché la gente non ci andava più volentieri perché c'erano situazioni di crisi, c'erano presenze ingombranti, fastisiose, pericolose e la mia paura è che questa stessa cosa si verifichi nel centro della città. C'erano le forze dell'ordine che sono intervenute e quindi non si dica che Pescara non è una città in cui non ci sono le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine ci sono, certo che quando ci sono 20.000-30.000 persone in uno spazio ridotto tutte le situazioni esplodono. Il sindaco Carlo Masci nel giorno di Pasqua tramite i social ha difeso gli imprenditori del settore ribadendo però tolleranza zero verso chi verrà meno alle regole. Certo, non è possibile che ci sia chi vende alcol ai minorenni perché questo purtroppo è successo. Queste persone avvelenano una generazione e noi non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Così come c'è gente che ha un locale di 20 metri che all'interno non può ospitare nessuno e poi pretende di avere spazi all'esterno. Quindi ci sono delle cose da risolvere e noi le risolveremo, capiremo anche se è possibile aggravare delle sanzioni per colpire chi sbaglia. Ma chi pensa di approfittare di Pescara e di danneggiarla può cominciare ad andare via. Il sindaco è nuovamente pronto all'ascolto ma chiede alle associazioni un patto per Pescara che possa garantire un equilibrio in città. Per la Movida di Pescara io voglio ragionare e sono contento se le associazioni, ma lo fanno costantemente, vogliono ragionare con me per trovare delle soluzioni e ovviamente andando a trovare soluzioni non alimentando situazioni negative.